Linda, sabato un'altra iniziativa, un altro sit-in per fare un po' il riassunto di quello che avete fatto per il castello di Carlo V, ma anche per portare all'attenzione altri siti. Ma è stato doveroso promuovere questo incontro in una piazza bellissima, quella piazza Sant'Angelo, il centro storico, per fare il punto della situazione e raccontarlo a chi c'era. E quindi si è ribadito il discorso di nessuna risposta per il momento, se ce ne sono o ce ne saranno da qui a qualche ora non lo so. Però voglio dire, dopo il Consiglio Comunale che ha sancito il discorso all'unanimità da parte dei consiglieri dell'apertura o in parte della fortezza, è passato più di un mese e non abbiamo avuto nessuna risposta. Aspettiamo il famoso, per quanto riguarda il castello, il famoso tecnico specializzato, con la speranza che non, a parte il fatto che non era necessario, però voglio dire, uno va vedendo il pelo nell'uovo perché c'era il documento dell'ARPACAL, addirittura valido dal 2019, poi rifatto sempre con lo stesso motivo. Quel pezzo pochissimo di Tenorm che si ritrova va tolto, va seppellito, questo lo stabiliscono loro. E poi tutto il resto può essere fruibile, che male c'è a chiedere questo. Quindi, poi, gli altri siti che sono chiusi, c'è il Bastione Toledo che conteneva, lo sappiamo, una bellissima raccolta di opere, di artisti, di donazioni, così, no? Il Bastione Toledo, distrutto qualche anno fa, chiuso, colmo di macerie di cui nessuno si occupa. Non sto dicendo che è responsabilità di quelli di ora, assolutamente, però metteteci mano, voglio dire, no? Cercate di... e poi il sito archeologico che nessuno ha visto, della Biper, che andrebbe, come dire, aperto. E questo l'abbiamo discusso con i cittadini che erano presenti e poi c'è anche qualche altra novità a riguardo dell'impegno. Un impegno costante, dunque, da parte di una cittadinanza che ricorda di essere una comunità e che chiede di poter vedere, visitare, far visitare anche ai turisti, quelli che sono i nostri siti chiusi. E sono... e sono... quello che io ho scritto e ribadito e detto tante volte. La ricchezza sotto... ad un passo da noi è la speranza, perché coloro che hanno, come dire, firmato la petizione, è una petizione semplice, popolare, hanno riconosciuto, per esempio, nel castello, nella fortezza, il valore della memoria del ricordo. Per cui la gente non è che è insensibile, non sa a chi rivolgersi. Diciamolo pure. Per cui, voglio dire, è così. Gli altri siti vanno raccontati, vanno spiegati ai cittadini, ma non solo dalla stessa cittadinanza, da chi deve spiegare queste cose.